Ciao ragazzi, io sono Antonio e come ogni martedì anche questa settimana nuovo video a tema Harry Potter e Animali Fantastici. Per la precisione oggi apriremo assieme tre nuovi Funko Pop super esclusivi, ma prima di cominciare voglio segnalarvi una nuova uscita letteraria a cui tengo davvero particolarmente. Ecco qui il pacco mi è appena arrivato da Rizzoli e voglio subito aprirlo per farvelo vedere. Togliamo la busta esterna ed ecco che abbiamo qui tra le mani il nostro bel mattoncino che adesso vi andrò a rivelare. Ragazzi, inaspettatamente come un fulmine al ciel sereno è arrivato un quarto volume della saga di Miss Peregrine. Tutti eravamo convinti che con la terza avventura Jacob avesse concluso il suo ciclo, perché inizialmente i libri dovevano essere effettivamente tre. E invece Ramso Riggs ha tirato fuori una quarta storia. Questa volta si svolgerà negli Stati Uniti, dove era finita la terza avventura dei nostri ragazzi speciali. Ebbene sì, ritroveremo di nuovo Miss Peregrine, ritroveremo Enoch, Jacob e tutti i nostri cari amici. E questa volta pronti a scoprire nuovi segreti, come vi dicevo, in terra americana, perché Jacob scopre un intero bunker sotto casa di suo nonno strapieno di indizi e di nuove cose da andare a chiarire. Quindi ragazzi, come al solito, io vi straconsiglio questa saga, anche perché in questo quarto volume tornano ancora una volta le varie foto d'epoca che poi, come sappiamo, entrano a far parte della nostra storia. Ogni personaggio introdotto tramite una foto reale che il nostro Ramso Riggs ritrova in mercatini o da collezionisti, poi entra in qualche modo a far parte della storia. E questa è una di quelle cose che mi è sempre piaciuta di questa saga, perché tramite queste foto ci si va sopra a ricamare e a creare dei personaggi totalmente inventati e queste foto sono sempre tanto, tanto inquietanti. Ma sicuramente conoscerete bene questo volume e saprete anche che io ho odiato, purtroppo, profondamente il film di Miss Peregrine. Perché, come ormai sappiamo, quando il nostro caro Tim Burton si cimenta nella trasposizione cinematografica di un volume, crea quasi sempre un danno. In ogni caso, ragazzi, trovate i link in infobox per acquistare questo e volumi precedenti e adesso, bando alle ciance, cominciamo il nostro unboxing potteriano. Ok, l'avevo quasi scordato, sono totalmente stordito e credo possa esservi alquanto utile, il libro si intitola La Mappa dei Giorni. Adesso però direi che è arrivato il momento di aggiungere il prossimo pezzo la mia collezione di animali fantastici e si tratta di un'esclusiva di Walmart che io ho recuperato tramite PopCulture, un sito australiano, vi lascio il link sotto in infobox, e si tratta del Mooncalf. Ragazzi, il Mooncalf non appare nella numerazione della wave di Animali Fantastici Crimini di Grindelwald, essendo appunto esclusiva, ma io lo volevo tantissimo ed eccolo qui tra le mie mani. È davvero un pezzo bellissimo, è già aperto perché essendo arrivato dall'Australia ci tenevo a controllare subito che fosse tutto integro e così è stato. Mi dispiace che quando arrivano dall'Australia non sono mai bollinati, ma comunque per quello che l'ho pagato va benissimo così. E una cosa che mi è subito piaciuta è che il Mooncalf ha questi occhi così grandi, ma comunque rendono davvero benissimo nel Funko Pop, ma mi è piaciuto anche il rosa che è stato utilizzato per metterlo sia nelle orecchie che nelle sue dita palmate, perché, ebbene sì, le zampe del Mooncalf sono palmate. Non lo sapevo, non l'avevo letto in Animali Fantastici, nel bestiario, e non ci avevo fatto caso nel primo film, anche perché si sono visti per qualche secondo, ma non benissimo, era anche buio. Spero che in questo film possano avere un po' più di spazio. Questo pop è davvero molto carino, nonostante non sia pieno di dettagli, sia quasi completamente nero, questo grigio molto oscuro più che nero. Devo dire che ha una faccia davvero molto molto carina, molto simpatica, mi piace un sacco anche la codina sul retro. È un pop semplicissimo, ma che andava assolutamente preso. Io non so se arriverà in Italia, dove potrete trovarlo, probabilmente qualche speranza potrebbe darla a GameStop, ma non so dirvi molto di più, perché non essendo esclusiva o topic, difficilmente arriverà su EMP. E ragazzi, però adesso dobbiamo passare a due pop fenomenali, due pop che mi hanno fatto leggermente disperare, perché sono davvero difficili da trovare, e si tratta delle due esclusive del New York Comic Con del 2018, e in particolar modo si tratta del Loguri e il nostro caro Professor Raptor, che nella nuova traduzione è chiamato Quirrell, col nome originale, ma io lo continuerò a chiamare Raptor. Ma adesso, bando alle ciance, mettiamo da parte il nostro Mooncalf, e ragazzi, ecco qui il mio pacco con i due pop. Dove li ho presi? Me lo chiederete sicuramente in tanti. Questi qui sono arrivati direttamente dall'America. Abbiamo fatto un acquisto di gruppo, tanti collezionisti, una persona si è immolata per noi, avendo la casella postale, abbiamo diviso le spese, e siamo riusciti a prendere un bel po' di pop del Comic Con. Quindi io devo ringraziare davvero tantissimo questa persona. Ma già lo sa, mi ha fatto un favore enorme. Io li ho pagati non tantissimo, alla fine tra Dogana, Spedizioni e tutto il resto, ho speso per entrambi i pop poco più di 50 euro. Quindi direi che mi è andata davvero benissimo. Arriveranno in Italia? Ragazzi, non lo so. Anche perché in questo caso non sono entrambi esclusive Hot Topic, quindi escludo che arriveranno su EMP. Arriveranno sicuramente altri pop del Comic Con, ma non questi. E l'unica speranza, anche questa volta, può essere o GameStop o qualche privato, come ad esempio Mini Big World Collectibles. Quindi comunque troverete i link sotto in info box a tutti i vari store che io vi consiglio. Ma adesso prendiamo il nostro amato bisturi e andiamo subito ad aprire questa scatola. Non vedo l'ora di guardarli. Ho girato subito il video proprio per tirarli fuori dalla scatola. Wow, ragazzi, sì, sono loro e sono fighissimi. Vi faccio sbirciare il pacco. Ecco qui, ragazzi, in tutto il loro splendore, sia il Professor Raptor che Loguri. Io direi di cominciare subito da Raptor perché è il pezzo più succulento, quello che assolutamente non volevo perdermi. Ed eccolo qui, tiriamolo fuori dalla sua scatoletta. dovrei utilizzare una card, ma vabbè, non fa niente tanto il mio, non lo venderò e quindi va bene così. È presente la basetta qui all'interno della confezione, ma noi al momento tiriamo fuori solamente il Pop che mettiamo qui in piedi e questa la mettiamo da parte. Ebbene, eccolo qui, ragazzi. È davvero pesantissimo. Ha la zucca piena, pesa davvero un sacco. E eccolo qui. Davanti è molto semplice nella sua posa classica con le sue mani in mano. E anche l'espressione mi piace parecchio, un po' accigliata. Il turbante è fatto davvero benissimo. Per il resto, invece, la tunica, i vestiti sono molto molto semplici. Il colore è assolutamente azzeccato. E sul retro mi dispiace un pochetto che si intraveda già la bocca di Voldemort. Mi sarebbe piaciuto che il turbante avesse coperto tutto fino alla base della testa. Ma, ragazzi, è già tanta, tantissima roba che si possa rimuovere il turbante. Perché, bene sì, per chi non lo sapesse, questo è il primo Pop di Harry Potter con una parte removibile. Sono davvero pochissimi i Pop con questa capacità come, ad esempio, se non sbaglio, uno di Black Panther e poco altro. E, ragazzi, ecco qui. Basta tirare via il nostro turbante e girare il Pop per rivelare la faccia di Lord Voldemort. Devo dire che questa scultura di Voldemort mi piace molto di più rispetto a quella del Pop ufficiale di Voldemort. Anche perché, inspiegabilmente, abbiamo 100.000 tipi di Harry, 200 tipi di Hermione, 150 tipi di Ron, ma un solo Voldemort, che è anche abbastanza datato e quindi un bel restyling. Non sarebbe male. Questo qui mi piace parecchio. L'unica cosa che temo è che, togliendo e mettendo il turbante, si possa andare a rovinare il colore di Voldemort. Quindi potremmo andare a rimuovere parte del colore. Io direi che adesso rimettiamo il turbante a Raptor e magari evitiamo di toglierlo nuovamente, così da limitare le volte al minimo indispensabile. Devo dire che questo Pop mi piace tantissimo. Sono contentissimo di averlo recuperato. Spero che anche voi possiate avere l'occasione di trovarlo a buon prezzo, anche perché al momento su eBay stanno speculando abbastanza su questo Pop. Ma non è finita qui perché ecco che all'interno del pacco troviamo anche Loguri. Loguri che non vedo l'ora di vedere nel film di Animali Fantastici i Crimini di Grindelwald. Se non sbaglio ce n'è uno anche un po' spelacchiato alle spalle di Jacob in uno dei trailer. E non vedo l'ora davvero di vederlo. Ragazzi, manca poco, mancano meno di due settimane e sto già fremendo. Anche perché si è appena saputo che sarà presente anche un altro professore di Hogwarts che abbiamo già visto nei film di Harry Potter. Ma non sto qui a spoilerarvi quale. Ecco qui il nostro Oguri. Ragazzi, è davvero bellissimo. Super dettagliato. Nulla a che vedere con Raptor. Questo sì, bello il fatto che abbia Voldemort dietro la nuca. Ma ragazzi, è dettagliatissimo. Tutte le piume, la coda, similpavone, davvero bellissima. Mi piacciono un sacco questi peletti verdi così un po' spelacchiati sulla zucca. Sembra un po' un pappagallino. Io voglio capire quali sono effettivamente le sue dimensioni per capire anche se prendere i misteri mini così da trovarlo proporzionato o se poter lasciare questo qui nella mia collezione. La testa purtroppo non gira. Credevo girasse. E invece no, è fissa e non si può ruotare. Peccato, io già pensavo di metterlo dritto con la testa rivolta verso davanti. E invece no, dovrò metterlo esposto così, in questa posizione. Comunque davvero molto molto bello. Credo sia il pop più dettagliato della mia collezione. Ha una miriade di dettagli, di particolari. Le piume, le ali, questi cosini verdi in testa, il becco. Ragazzi, bellissimo. Abbiamo davvero tanta, tantissima roba. Anche in questo caso sono super contento di averlo recuperato. Ebbene ragazzi, anche per questa settimana è tutto. Vi ho portato tre nuove esclusive che ho appena aggiunto nella mia collezione, ma stanno per arrivare tantissimi altri pop. E quindi non ci resta che aspettare adesso l'uscita del nuovo film di Animali Fantastici. La prossima settimana vi mostrerò un acquisto Noble Collection, ragazzi, bellissimo, spettacolare. Una novità assoluta che credo vi mostrerò per primo in Italia. Quindi, mi raccomando, attivate la campanella, lasciate un mi piace e condividete il canale con i vostri amici, così mi aiutate a crescere. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e vi ricordo che usando il codice 7Potter su Pampling avrete il 15% di sconto su tutte le loro magliette, tutto il loro merchandising, ragazzi, per sempre, tutta la vita, finché morte non ci separi. Bene, detto questo, la smetto di annoiarvi e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!